Eccoci qui con Cerullo ed Artina, c'è anche Mario Barbieri, adottore di un gol spettacolare Ragazzi vittoria c'è il 5 a 0 contro il Quest Team, partita che vi vedeva sfavoriti, posta la vigilia, però prestazione di carattere Ma che ho posto il giornalista, tutti scegli Stai che ne pensi? Noi già abbiamo un talento unico Per gli amici del Desma Vai vai Stai rimasto imbattuto Sei riuscito a resistere gli attacchi avversari Sei frizzantino Giovanni che ne pensi? Gioca in attacco quest'oggi la differenza di vista Benamente ho giocato a centro campo Vabbè c'è il più offensivo Ma però mi hai dovuto essere accegnare da parte dei miei compagni di squadra Ma la barri Agli venne nuovo si scassa Ma te l'ha fatto un euro goal La differenza E comunque che dire Il calcio è gioia, è divertimento, è gioia Si viene anche per divertirsi Non bisogna sempre vincere E abbiamo dato una lezione di calcio Mario che ne pensi Mario dovevo arrivare a questa squadra A questo punto A casa stasera mangiare Ma benissimo Allora in bocca al lupo alla squadra di calcetto Grande il parcheggiatore Ecco Grazie